Cerchiamo di investire circa un milione di euro, quest'anno ci siamo riusciti. Ci saranno altre spese per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza stradale per 580 mila euro che praticamente la progettazione è ancora in corso, che è anche la sicurezza per altre strade cittadine. Abbiamo molti problemi per quanto riguarda la viabilità con le buche, con la cura e il decoro. Purtroppo questa è una situazione che noi abbiamo ereditato ma che vogliamo nell'arco di questo nostro mandato completamente chiudere e quindi definire e quindi mettere in sicurezza anche ciò che adesso purtroppo qualche problema c'è ancora. Io anche io volevo ringraziare la ditta e volevo ringraziare anche la progettazione e la direzione dei lavori, il Geo Meramancini perché c'è stata una collaborazione fra le tre parti, quindi parlo di comune, impresa e quindi direzione e progettazione che mi ha fatto molto piacere perché è un momento in cui quando le parti si uniscono per risolvere i problemi poi si hanno questi risultati e oggi mi sembra che questa protonda sia un bel risultato per la città. È la prima e ce ne saranno altre. Se questa è la mentalità che tutti noi vogliamo avere faremo dei grandi passi in avanti. Grazie.